Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono 3 km di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno e 2 km di coda tra Empoli-Est e Montelupo in direzione Firenze. Sempre in FIPILI code in uscita la Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Escandici in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda le autostrade in A1 in direzione Roma 2 km di coda tra Aglio e Calenzano-Sesto-Fiorentino e 2 km di coda per un incidente risolto tra Incisa-Reggello e Valdarno. In direzione Bologna code tra Firenze-Escandici e Firenze-Nord e rallentamenti tra Calenzano-Sesto-Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In A11 code tra Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione Pisa. Ed è tutto, buon viaggio!